Ciao a tutti, sono The10, oggi si gioco con Shikiro Ho fatto tutto da questa parte da sola, off camera Ho fatto tutto in uno stealth, senza farmi accorgere Ho messo di tutti Adesso mi manca solo il capoccia, la merda Adesso, guardo un attimo Avanti, indietro In quel momento me lo posso Avanti, indietro Eh, qua bastarda Oh mio dio Oh Piano piano eh, facciamo anche ufficio eh So No no, sbagliato Ho imparato la mossa Mì- Mì- Chi- Mì- Chi- Guarda dove è Non c'è qualcosa rosso, schiaccio quadra- cerchio che fa Ho imparato un po' adesso piano piano Piano, 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 cominciamo a sconfiggio allora... Piano, piano... Piano, piano, piano... No 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 iuuh!! Prendiamo lo stesso... Grazie a tutti. Oh, guaiato. No, no, giusto. No, no, giusto. No, no, giusto. No, giusto. Mi manco appena uno e penso andiamo avanti, meno male, dai. Piano piano sto imparando a giocare bene. L'ultimo video mi sono fermato che è un po' incazzato, ma questa volta andiamo. Ok. Andiamo puttì avanti. Sono uno che un po' imparato a far apparato del genere un pochettino. Riposa, riposa, mia ciolla, risuscita. Ehm, manca uno. Oddio, madonna. Sblocchiamo... Sblocchiamo... quando l'ho fatto perchè volevo tornare indietro, quando c'è la campanella della vecchia andate al tempio, luogo importante, andate da parte del vecchio, c'è tipo un buddha così e lui si prega, è Sekiro, e ti fa tornare indietro nel tempo di tre anni percattolo mi sono fermato che c'è un mini boss, così non sono uscito ad andare avanti ma lo facciamo insieme, sono il principale, è il mini boss ma facciamo più vai, non ho uscito a registrare perchè stavo caricando il video così non sono riuscito a registrarlo perchè mi stava caricando il video, il computer quindi non sono riuscito a registrare perchè mi dispiace un po' tanto dobbiamo prendere un po' la mano come parare, che cosa le varie, vado dopo, vado a maletta credo c'è quello mosso col cerchio, quando c'è il singolo rosso che toglie una barretta diciamo, un cerchio rampino, vabbè lo so anch'io non si è più usato non si è più usato non si è più usato non si è, non è così non si è più usato ma lo so non si è più usato Oh mio dio sangue Voglio fammi accorgere Mi sono ammazzato da bastardi Guarda di là figlio di una mignotta Non mi sono inchinato da lei Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio No mi sono accorgere Forkutue! Forkutue! Dai, questo lo vedo in della bichata! Dio madonna! Sì! Sì! Piano, piano, piano! Non vuoi com'è, voglio morire! Sì! 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 Solo qua li ho fatto adesso, ho visto! Quora vieta? No! Vai vi来! Eh!? Quoc! Sì! Sì, sì. Sì, sì, sì. dai dai so tu si beee tu si beee si tu si beee si ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ok ok voglio uscire adesso ok stacca ma vuoi morire dai santo dio santo il seme quando avete preso la prima volta dopo il buddha santo dio buddha se si riposa mi assalbo i miei oggetti che mi servono di quanto li ho di 16 mentre li salvo i miei oggetti i miei oggetti cosa l'ho preso per sapere polver antidoto non ti deve essere ah il veleno contro quello la non è che ma è gigante Non fa più fastidio. Qua non devo avere mai di freddo, come questo gioco guarda sono dipinteri. Grazie. Grazie a tutti. Ma c'è un goblin, vedo, andiamo a ammazzarlo. Frammenti da erbario. Ma è molto tesa. Vediamo un po' come funziona qua. Guarda, un segno di fumo. Ah no, quello. Solo Gyubo. Gyubo. Demoli. Porca puttana, ho già seguito quel nome. Vediamo un po' come funziona. 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 Vediamo un po'29 Vediamo un po' come funziona sta... Vediamo un po' come funziona. Vediamo un po' come funziona. Vediamo un po' come funziona. Vediamo un po', ci sono per 25 eltre características. il gigante fa tutto il giro c'è chiama sa qua il c'è chiama ma qua arriva un palo di gigante piano piano se il gioco è tutto un po' che si concentra anche tutto sul stento e cose varie allora c'è un po' piano e non si va avanti con la storia e è troppo forte per questo, per dire il potere del mio sangue, tutto quanto è venuto diventato un monstro incapacitabile, un po' da dolore, vuoi corrompere lì via. ... ... ... ... ... ... No, non potrebbe essere più forte con Genichiro. Ma cosa potrebbe fare, non potrebbe essere ancora più forte. E' un bel navi dai, ci vediamo la parabocchetta Proprio cavallo Ma sotto un pizzico di povera da spara... E' proprio fusa Ma stiamo... Ma sto qua, dopo ci fermiamo che è già... Promogeno Ci mettiamo qua Se vi è piaciuto il video lasciate un like e non qualsiasi che diciamo al prossimo video Ciao